Il primo coming out ho fatto a 18 anni con la mia migliore amica, subito dopo con gli altri amici, pochi mesi dopo con i miei genitori e alla fine del liceo, quindi sempre a 18 anni, ho avuto mano a mano un coming out generale con tutti, con le persone che vedevo, che incontravo, mi sono sentita più libera di dirglielo. Il coming out c'è e comincia a parlare con te stessa, quando decidi, dopo aver parlato con te stessa, di parlare agli altri. Il passo principale della politica omosessuale è proprio quella della visibilità, quella di dire sono così e non mi sento colpevole di niente, non ho nessuna differenza da un altro, tu lo devi sapere, devi fare i conti con questo, tu altro diverso da me, devi sapere che io sono omosessuale, ci devi fare i conti, lo devi accettare, mi devi accompagnare, mi devi sostenere un percorso politico di diritti e di uguaglianza. Così? Eh? Vabbè, ci sentiamo dopo. Capito? Sì, con chi? Mi hai tradito? Con chi? Chi è Giacomo? Ah, l'amico suo. Sì, sì, che è più etero di me. Ammazzati. Dai, ci sentiamo dopo. Ci sentiamo dopo. Ti amo. Ciao, ciao. Il mio primo coming out è stato con la mia migliore amica dei tempi. Tornavamo a casa dopo un sabato sera passato in giro per Trastevere e a un certo punto ho preso coraggio e ho detto c'è una cosa che devo dirti, io mi piacciono anche le donne, penso di essere lesbica. Io all'inizio i primi coming out erano proprio sofferti, cioè discussioni lunghissime, giri e rigiri di parole, mille ore, anche periodi ci mettevo a far capire perché non ero mai diretto, insomma era un po' un casino. Praticamente io ho cominciato a fare politica a 15 anni e quindi i miei genitori sono sempre stati abituati ad osservarmi attraverso la lente dell'esperienza politica. Per cui quando cominciai ad occuparmi di politica omosessuale non ci fu una relazione particolare perché pensavano che fosse un impegno come un altro. Cominciarono le prime interviste sui giornali e la prima intervista in assoluto che ho rilasciato al GR della RAI delle 8 del mattino, che era il GR che ascoltavano i miei genitori. E' stato così che mia madre mi chiamò e mi disse ma ti abbiamo sentito e volevo farti i miei complimenti perché hai una bellissima voce e perché hai parlato molto bene, però volevo chiederti ma cosa c'entri tu con gli omosessuali? La mia risposta fu me ne occupo, che non era tutta la verità ma non era nemmeno una bugia, me ne occupo politicamente e mia madre mi disse per noi non ci sono problemi, l'importante è che tu sia felice. Devo molto di questo mio impegno poi successivo a Bruno Di Donato, un militante del fuori di Roma e Bruno intravede probabilmente me un leader del movimento, intravede una persona che era capace di parlare, che aveva delle idee e mi spinge verso questa strada, mi fa partecipare a tutte le riunioni fino a convincere ma partecipare ad una trasmissione, si parlava di coppia, volevano una coppia gay. Io non ho fatto altro che telefonare a tutti i parenti e gli amici lasciando soltanto questo annuncio, stasera sono su Rete4, Fascination, ora 21, ciao. Quando io annuncio che sono in televisione tutti hanno pensato, io finalmente quella sera presentavo, facevo qualcosa e quindi si sono preparati i gruppi di ascolto, si chiamano i vicini eccetera e finalmente arriva il momento fatidico, guarda che bello, eccolo lì tutti, insomma. Questo mi è stato raccontato poi dai vari gruppi di ascolto, finché poi arriva Simona Izzo e dice Bruno e Vanni si amano. Allora c'è da qualche parte, fa come invitarmi pure i vicini per sto scandalo, per sta vergogna, curcati i figlioli. Tra l'altro anche in famiglia una cognata idiota, voglio dire, che non ho problema a definire come tale, con cui non ho nessunissimo rapporto, perché sono io che ho selezionato i miei rapporti in famiglia, telefono a mio fratello più grande, che essendo una figura autorevole della famiglia doveva forse sostenere la sua idea, gli dice, ah guarda hai visto Vanni? Dice sì, l'abbiamo visto, che vergogna! E le è stato risposto, cara cognata, l'unica vergogna della famiglia piccolo per ora sei tu. Quindi abbiamo messo a tacere questa voce di pura idiozia. I miei non capivano, non volevano capire, non sentivano, addirittura quando io cominciai a parlare con mia sorella di questo mio bisogno di cambiare sesso, lei mi disse che mi reputava omosessuale per vizio da qualche anno, quando noi avevamo lavorato insieme al Piper di Roma per vent'anni e io ero veramente una bandiera dell'omosessualità che non nascondevo niente a nessuno, ero famosissima, ma questo mi fece capire che non era possibile per me continuare. Allora ebbi un'occasione, già stavo facendo un piccolo sostegno psicologico e endocrinologico all'ospedale Fate Bene Fratelli, mi capitò un'occasione di avere dei soldi e partì per Casablanca, ma avevo quasi 40 anni. Però la cosa bella è stata che tutti i miei colleghi di lavoro del Piper, tutti mi dissero, ah Marcella ce l'hai fatta eh! Si rendevano conto che questo era il sogno della mia vita, essere donna, era il mio bisogno più impellente perché mentalmente ero donna. Io a quei tempi avevo mia madre, mia sorella che avevano tre figli, lei vedova, tre figli di cui uno piccolo, sette anni. Il primo ad avermi accettato incondizionatamente, spassionatamente, è stato quello più piccolo, quello che la psicologa diceva che avrebbe avuto più danni, invece anche adesso che ormai sono passati 20 anni, mi tratta sempre in un modo straordinario, affettuosissimo. Mia madre addirittura per un certo periodo di tempo non voleva nemmeno vedermi, né sentire parlare di me. Vivevamo nella stessa casa e non mi rivolgeva la parola, assolutamente. Poi dopo invece si è resa conto e mi ha amato fino al giorno che è morta. Tant'è vero che mi ricordo io ero a Bologna, lei era a Roma, ha aspettato di morire che io andassi a Roma a vederla, proprio ha aspettato perché è morta il giorno dopo. Io ho parlato di me, delle mie esperienze e ne ho parlato con una mia amica in terza liceo, quando stavo in terza liceo, esattamente quando fu ammazzato Pierpaolo Pasolini e ci fu un'assemblea proprio sulla morte di Pasolini e io lì mi sentì di intervenire, di dire la mia in quanto omosessuale, in quanto direttamente chiamata in causa, quindi lì per la prima volta mi esposi davanti a tutto l'istituto, quindi davanti a 130 studenti, molti dei quali si misero a fischiare, molti dei quali proposero di raccogliere le firme per cacciarmi dall'istituto. Dissi che anch'io ero come Pasolini, ecco erano queste le cose. Dicevo a mezza bocca quello che un po' tutti sapevano, che però non si diceva, no? E per me fu una cosa molto importante, molto difficile, difficile proprio per i tempi, era il 75 in un paesino del sud, ecco ti ho detto tutto. È una vera tragedia, è stata assolutamente una tragedia tradizionale, con tutte le lacrime, i pianti, sei malata, ti devo portare dal medico, questo è una cosa terribile, fai schifo. Insomma le peggio cose che potevo vivere, con una forza e energia di che a mia madre io non ho nessuna malattia, non ho niente di cui mi vergogno, sono semplicemente innamorata, vado via, parto, lascio il lavoro e me ne vado. Litico in maniera furibonda con mio padre quando gli dico guarda che comunque vado a lavorare in un posto più importante, guadagnerò di più, mio padre di tutta risposta mi fa a te che te ne frega della carriera del lavoro, sei donna, ti devi sposare e la carriera con te non c'entra niente. Mi alzo guardandolo fisso negli occhi dicendo tu, io ho 25 anni, non ti sei mai posto il problema di chiederti chi fossi, dove voglia andare, che obiettivi ho nella vita, non hai mai capito un cazzo di me. Non parlo più con mia madre e mio padre, noi per un anno interno non ci siamo più neanche telefonati, perché mia madre quando sono partita con la mia valigetta mi dice tu per me sei morta, io non ti considero più mia figlia. Sentivo l'esigenza di parlarne a qualcuno, di condividere questa cosa, questa confusione, potermi confrontare e avere l'appoggio da parte degli amici. Non molto tempo dopo, in realtà, dai miei primi coming out con gli amici ne ho parlato anche ai miei genitori, prima a mio padre e poi a mia madre. Ho scelto di dirlo prima a mio padre perché sapevo che avrebbe avuto una reazione più tranquilla, infatti così è stato, un po' di dubbio, un po' di incertezze, ma non è cambiato nulla nel suo comportamento verso di me. Alcuni giorni dopo l'ho detta anche a mia madre, lei invece si è fatta inizialmente più problemi, oddio che ho sbagliato, che ho fatto di male, lo fai contro di me. Oddio, la prima cosa Francesca ha ragione, mi sono sentita subito in colpa, cioè io ho sempre detto questo fatto, che cosa ho sbagliato, perché nell'immaginario collettivo se un figlio fa qualcosa di diverso dalla norma è sempre colpa dei genitori. Mi ha chiesto se potevo andare da una psicologa per un po' di tempo per vedere se la mia fosse solo una confusione o se era veramente la mia natura. Poteva anche essere una provocazione da parte sua, magari un dispetto, fra virgolette, dirci determinate cose. Invece poi abbiamo visto che in effetti era veramente una sua inclinazione o una sua caratteristica. Quello che dico, io per esempio sono mio per gli occhiali, è una caratteristica, sono nato così, non ci posso fare niente, insomma ecco, la stessa cosa dovrebbe essere per lei e per tutti quanti. Poi effettivamente quando ha portato a casa Francesca, la sua fidanzata, che era un amore serio così, effettivamente ci siamo resi conto che era proprio una cosa naturale, era proprio così. Vederle insieme ci ha fatto fare il salto, cioè ci siamo resi conto che proprio non c'era differenza. Si comportava esattamente come si sarebbe comportato con un maschio, uguale proprio. Quindi quella è stata la cosa che ce l'ha fatto accettare di più, perché finché immaginavo che stava con una ragazza, invece vederla con una ragazza è stato diverso, naturale. Pochi giorni fa, una o due settimane fa, mi ha anche chiesto scusa di avermi mandato dalla psicologa e di avermi semi-imposto questa cosa. Ho visto, una volta sono stata a una riunione dell'Arci, e molti ragazzi aspettano in eterno questa accettazione dai genitori, non è detto che arriva. Alcuni forse non ce la fanno, sbagliano, certo se condannano, se marginano, lì è un errore grave, però forse hanno dei problemi dentro loro, ecco. E quindi a un certo punto ognuno deve fare la propria vita. Succede che eravamo in vacanza, in una casa che abbiamo al mare, e avevamo litigato perché io volevo essere accompagnato in una città a incontrare un amico che poi insomma era una persona, un ragazzo che mi interessava, questo non era noto ovviamente ai miei, non hanno mantenuto la promessa di portarmi, quindi abbiamo litigato in modo abbastanza pesante, e lì quella sera, delusissimo, frustratissimo proprio, insieme a mia sorella che già lo sapeva, abbiamo deciso di dirglielo, e abbiamo raggiunto la camera dove stavano i miei genitori, c'era solo papà, e mi sono scoppiato a piangere ovviamente perché comunque l'aria era un po' un po' così, e non riuscivo a parlare. La mia sorella mi ha preso la mano, ci siamo guardati, un po' uno sguardo di intesa, e gli ho fatto capire di parlare per me, e lei gli ha detto papà, Pietro voleva dirvi che è gay. Naturalmente per me è stato un attimo così sconcertante, perché io a differenza di mia moglie non avevo questa percezione, anzi avevo sempre per certi versi sorriso su questa cosa che Paola mi andava dicendo. Poi si è seduto, si è messo così, e mi ha iniziato a fare delle domande, un po' per tranquillizzarmi, per farmi capire che comunque lui c'era, anzi mi ha detto proprio questo, mi ha detto io ci sono, non ti preoccupare, voglio solo sapere se sei felice, un po' domande di circostanza. Si vedeva che era teso, però è stato abbastanza carino. Poi è arrivata mamma, in quell'ambiente tremendo, così, io che piangevo, mia sorella così, papà così, e quindi si è subito preoccupata, che è successo, che è successo, e gli è stato papà a dirglielo, si è messa vicino, gli ha detto, no guarda Pietro voleva dirci che è gay, e lei si è iniziata a tremare. Io mi sono sentita in quel momento morire, ma non perché mi svelava quella cosa, ma perché appunto, come dice mio marito, io mi sono preoccupata delle cose a cui doveva andare incontro. Io poi mi sono preoccupato ovviamente quando ho visto questa reazione, anche perché non me l'aspettavo, e lei ha detto che tremava perché faceva freddo, ma era agosto, pieno agosto. Però dopodiché, ovviamente, il primo momento lì, mi sarei voluto veramente buttare dalla finestra, proprio in quell'istante. Però è stato un momento molto cospicuo, perché io ho sentito comunque la sofferenza di Pietro, anche se in quel momento io ho percepito per la prima volta, e in maniera perfettamente consapevole, quale fosse poi lo spessore morale di mio figlio. Il suo coraggio, e non lo dico perché mio figlio, te lo dico perché mi rendo conto adesso cosa possa significare, il valore che possa avere, a 13 anni, dire una cosa del genere a suo padre, e con quella convinzione, e non portarsela avanti, magari mettendo a se stesso, magari non dicendo, magari… e questa cosa Pietro l'ha portata avanti con forza e la porterà avanti tutta la vita, è diventato un suo modo di esistere, una sua ragione di vita, e questo fa di me un padre fiero. Sicuramente la cosa che più mi angosciava era che potessero scoprirlo da qualcun altro. Io avevo un po' già la presunzione di voler essere me stesso a tutti i costi, di volermi imporre giustamente, però già così a 11 anni, e quindi avevo paura che comunque con questo atteggiamento, prima o poi qualcuno potesse, che so, parlarne con i propri genitori, che è una cosa abbastanza tipica a quell'età, e quindi poi magari che la voce sarebbe potuta arrivare ai miei, e poi perché comunque sia io che mia sorella abbiamo sempre avuto un bel rapporto con i nostri genitori. L'ho sempre saputo. I miei compagni di classe, le femmine, comunque mi sono piaciute fin da sempre, io ricordo una gotta per una compagna di classe alimentare, però nessuno mi ha spiegato, sai, sei una donna, ti possono piacere le donne, e quindi ho ripresso molto, molto la cosa, ma ricordo perfettamente anche durante il periodo delle medie, del liceo, mi sono sempre piaciute le ragazze. Cominciavo a vedere queste persone, Deborah Di Cave, che avevano un coraggio a esporsi nelle piazze, nelle manifestazioni, nelle prime interviste in televisione, io mi sentivo sempre, come dire, che quando accendevo il televisore, che magari c'era Panni Picco, Deborah Di Cave, mi mettevo vergogna che le persone potessero sentire la parola omosessuale, quindi in qualche modo giravo. Io non devo confessare di essere omosessuale, io devo vivere da omosessuale, perché un eterosessuale non dice mai a un genitore, papà scusa, io sono etero. Questa è stata una mia scelta importante, io non ho mai chiesto scusa di essere omosessuale, ne ho chiesto scusa, aspettate un attimo, ne ho chiamato mai un amico, ti devo dire una cosa, ascoltami, siediti. Io penso che ciò che mi ha aiutato tantissimo è stato a un certo punto dirmi, io non so cosa sono. Cioè a un certo punto mi sono proprio detto, se continuo a dire, sono etero ma forse non lo so, non arrivo da nessuna parte. Allora mi sono chiesto, non lo so, chi sono? E partendo da zero ho trovato un po' la strada giusta. Ma perché? Ma cazzo, non è possibile subire tutto questo. Quindi dentro di me cresceva sempre di più questo rifiuto di sentirsi diversi, questo rifiuto di dire, ah allora io ho bisogno di uno spazzetto come omosessuale. No, cresceva sempre di più questo tipo, vabbè sono omosessuale, allora che cazzo ci dobbiamo fare? Avanti, veniamo al dunque, veniamo fuori, giochiamo a carte scoperte, tiriamo fuori ognuno il proprio asso nella manica e vediamo chi vince. Non è necessario, me lo sentivo io, non volevo mentire, dover dire qualcosa a qualcun altro, sai che hai fatto ieri sera e inventarmi scuse su scuse e dovermi giustificare. È utile per, sicuramente è uno strumento utile per poter parlare con le persone, che bisogna arrivarci e fargli capire quali sono effettivamente i nostri problemi, quello che richiediamo e quant'altro. Però non è necessario, se una persona non se lo sente non deve farlo. Io ho sentito che per me era il momento. Fare coming out credo sia indispensabile sia per se stessi che come fatto politico, perché comunque è indubbio che in una situazione sociale come la nostra il coming out è un atto politico, perché tu ti stai in quel momento imponendo e stai dicendo io sono questo e è così, punto. Voglio insistere su questo, non c'è un bisogno di confessare di essere omosessuali, la confessione si confessa una colpa. Allora voglio veramente incidere su questo sentimento molto diffuso, soprattutto nei giovani omosessuali, di avere vergogna di essere omosessuali o di sentirsi in colpa per essere omosessuali. Assolutamente liberatevi, liberiamoci da questi pregiudizi che riguardano noi, da questi sentimenti perché non è assolutamente così, non è una vergogna, non è una colpa, quindi non c'è da confessare niente. La cosa migliore è di proporsi in una maniera la più serena possibile con la propria omosessualità. Credo che ai genitori e agli amici poi importi una cosa sola, la felicità dei propri figli. Un genitore che condizioni il proprio affetto, si faccia condizionare, insomma permetta al proprio affetto di essere condizionato dal fatto che i propri figli siano omosessuali, io ritengo che non è un genitore capace di amare fino in fondo. E che me ne devo fare di un genitore simile? Cioè io ho fatto queste scelte. Cioè mio padre non può essere mio padre soltanto perché si è fatto una scopata e io ne sono nato. Mio padre è mio padre se mi vuole bene, se mi capisce, se non mi accetta, è un problema suo. Brecht diceva una cosa che per me è molto importante, nella vita bisogna stare comodo. Quindi la ricerca personale deve portare a questa comodità, è importante, è essenziale. Non, no, no. Non, no, no, no. E bell'iscrizione è molto importante, E poi, mi accanto, è tornare a questa conoscenza. E poi, a sincerità, è un頭 ovo, Che a chiama, è un'orecchio e spazio. Che a chiama, mer車 è un'orecchio e una cosa che per me è un'orecchio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.